Adriano Celentano, la vita, il successo e la triste fine. Prima di iniziare il video ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace. La storia di Adriano Celentano è un affascinante intreccio di musica, cinema e un amore duraturo che ha resistito alle prove del tempo. È molto difficile trovare le parole più adatte per narrare chi sia veramente Adriano Celentano e quale ruolo abbia svolto nell'arte e nella cultura italiana. Definito il ragazzo della Via Gluck e il molleggiato, Celentano non è soltanto un cantante, ma un autentico pioniere della musica e della televisione, che ha lasciato un'impronta indelebile nel panorama artistico italiano. La sua storia inizia il 6 gennaio 1938 a Milano, figlio di commercianti pugliesi, fin da giovane, Celentano manifesta una sensibilità straordinaria e un carattere deciso. Debuttando nel 1957 al primo festival del rock italiano presso il Palaghiaccio di Milano. Il soprannome, molleggiato, nasce dal suo modo singolare di ballare, che ricorda il leggendario Elvis Presley. Celentano diventa presto un anticipatore dei tempi, attraversando varie metamorfosi come cantante, showman, attore e regista. La sua personalità grintosa e rivoluzionaria lo rende un'icona della musica italiana. Ma non si fa notare solo nel mondo della musica, infatti Celentano è stato anche un attore e regista, è stato un vero e proprio visionario. Il suo esordio cinematografico avviene negli anni 60 con uno strano tipo, in cui inizia a delinearsi anche la storia d'amore tra lui e la sua compagna di vita, Claudia Mori. L'anno seguente, il 1961, Adriano parte per il servizio militare. Ma riesce ugualmente a partecipare al suo primo festival di Sanremo con 24.000 baci, in coppia con Little Tony. Non vince, si classifica al secondo posto, ma il suo sarà il disco più venduto, superando il milione di coppie e conquistando un nuovo primo posto nella classifica. La sua performance grintosa e la rivoluzione nel modo di esibirsi lasciano il pubblico con un punto di domanda sul futuro della musica italiana. Nel 1964, in una relazione ormai consolidata con la compagna Mori, Celentano si sposa, dando vita a una delle coppie più longeve e ammirate dello spettacolo italiano. La loro relazione diventa una costante nel suo percorso artistico e fungetata oggi da stimolo per tutte le coppie. Il 1964 segna anche l'inizio della carriera da regista di Celentano con Super Rapina a Milano, un lungometraggio che riscuote un notevole successo di critica e pubblico. Azzurro, uno dei più grandi successi, è la gemma musicale che ha cementato il ruolo di Adriano Celentano come uno dei grandi maestri della canzone italiana. Rilasciata nel 1968, la canzone trasuda un'atmosfera estiva e un senso di libertà. Chi non lavora non fa l'amore è un'altra pietra miliare nella carriera di Celentano, rilasciata nel 1970. Questo brano non solo sottolinea l'abilità di Celentano nel creare i torecchiabili, ma si distingue anche per il suo messaggio provocatorio e il suo impatto culturale. Celentano continua a collezionare successi, partecipando a Sanremo in un indimenticabile duetto con la compagna Claudia Mori. Claudia Mori, oltre a essere la sua musa, diventa anche sua compagna sul setting film come Rugantino nel 1973 e Youppidu nel 1975. Queste collaborazioni cinematografiche contribuiscono a cementare ulteriormente il loro rapporto, rendendoli la coppia più affiatata del mondo dello spettacolo italiano. Il loro legame non è solo professionale, ma anche personale. Celentano e Mori dimostrano che l'amore può fiorire anche nell'ambiente spesso tumultuoso dello spettacolo. La loro connessione va oltre i riflettori, resistendo alle sfide e alle tentazioni che la vita pubblica porta con sé. La coppia diventa un esempio di dedizione reciproca, un'affermazione che l'amore e la partnership possono coesistere in armonia. Gli anni Ottanta vedono nascere una delle coppie più significative per la musica italiana, Celentano e Mina. La collaborazione tra Adriano Celentano e Mina è stata un evento significativo nella storia della musica italiana. Oltre alle canzoni incise insieme, il loro legame ha contribuito a sfatare stereotipi e a creare un'iconica coppia di artisti. Questa partnership ha evidenziato la compatibilità artistica e personale tra i due, creando un patrimonio culturale che va oltre la semplice registrazione di canzoni. Nel corso degli anni, Celentano continua a brillare nel mondo della musica, accumulando successi che spaziano dalle esibizioni al Festival di Sanremo esattamente cinque volte, alle indimenticabili canzoni che diventano colonna sonora di intere generazioni. Nel contesto cinematografico, le sue performance sono caratterizzate da una versatilità unica che riflette la sua abilità nel reinventarsi costantemente. Celentano è stato molto attivo anche nel cinema, recitando in 43 film e dirigendone 4, e in televisione, dove ha condotto numerosi spettacoli televisivi. Celentano diventa un vero predicatore del popolo, capace di spostare consensi e opinioni attraverso la sua comunicazione innovativa in televisione. Le sue pause, il suo modo unico di parlare e il suo coinvolgimento in tematiche sociali e politiche lo rendono un fenomeno di massa. Tuttavia, il destino mette alla prova la forza della famiglia Celentano nel 2005, quando il loro figlio Rosario, di soli 19 anni, seguendo le orme del padre nel mondo dello spettacolo, muore in un tragico incidente stradale. Questo periodo oscuro sottolinea la vulnerabilità della vita, ma Celentano e Mori affrontano insieme il dolore, dimostrando ancora una volta la solidità del loro rapporto. La morte di Rosario ha segnato un punto di svolta nella vita di Adriano Celentano, rivelando la fragilità della vita e influenzando profondamente la sua arte. Questa tragedia ha profondamente influenzato Celentano, portandolo a ritirarsi temporaneamente dallo spettacolo. Adriano Celentano e Claudia Mori sono una coppia che ha resistito alle tempeste del tempo, mostrando che l'amore, la collaborazione e la dedizione possono costruire un legame eterno. Il loro percorso artistico e personale è un racconto di successo, resilienza e amore, rendendoli un faro di speranza e ispirazione per tutti coloro che credono nell'eternità di un amore autentico. In occasione del 58esimo anniversario di matrimonio, Adriano Celentano dedica alla moglie un video romantico, Mi sei entrata dentro, in cui ripercorre il giorno del loro incontro e celebra un amore mai sopito sulle note di Io non ricordo. Da quel giorno tu? Dall'inizio della sua carriera ad oggi, Celentano ha venduto circa 150 milioni di copie dei suoi album, risultando il cantante italiano con più dischi venduti dopo Mina. Oggi, Celentano resta un'icona indiscussa della cultura italiana, con una carriera straordinaria che continua a suscitare curiosità. In questo approfondito viaggio attraverso la vita e l'eredità di Adriano Celentano, abbiamo esplorato le profondità dell'anima di un uomo che ha ridefinito la musica, il cinema e la cultura italiana. Celentano, con la sua straordinaria versatilità, è riuscito a spaziare tra generi, linguaggi e temi, creando un'impronta indelebile nella storia dello spettacolo.